eccoci qua con i due orecchini realizzati con le tecniche che avete visto oggi mostrate sono tutte e due realizzate con un cerchietto di plastica che io vi ho fatto vedere nel video precedente realizzandolo da un fondo di una contenitore per l'insalata di quelli che si comprano fai da te cioè insalate già pronte e ritagliati rotondi allora questo è stato lavorato con filo nero di cui metterò poi anche il link e poi tutto il pizzetto con le perline che sapete già fare monachella anche questa fatta a mano con sistema che sapete già fare avvene nei precedenti video vi ho già insegnato e questo è stato ricoperto completamente perché richiedeva diciamo anche se in trasparenza ogni tanto si vede il diciamo la base però è trasparente quindi non disturba assolutamente la realizzazione dell'orecchino questo invece è stato realizzato un filo di alluminio è leggermente più complesso anche qui è stato fatto il pizzetto poi io ho anche decorato la parte centrale con un filo di perline e come vedete non si capisce assolutamente che sia stato fatto anche qui la monachella fatta a mano non si capisce assolutamente che sia stato fatto su una base di plastica perché visto così si vede anche in trasparenza sembra che dietro non ci sia nulla invece c'è l'anima di plastica è il bello delle dell'orecchino è proprio questo io qui ho fatto una piccola un piccolo cerchietto per attaccarlo però se volete potete anche attaccarlo direttamente all'orecchino come ho fatto qua con un anello cioè o lo attaccate così o lo attaccate così nel senso che o mettete un anellino come ho fatto qua ecco qui c'è un anellino e poi c'è attaccato la monachella oppure fate un semplice cappietto come ho fatto io e ci attaccate la monachella è indifferente sono uno leggermente più grande dell'altro perché questo fatto col sistema della della raggera con l'alluminio porta via più più spazio e quindi già i tondi sono uguali diciamo i cerchietti sono uguali è soltanto che questa lavorazione ha portato un livello superiore di di spazio ecco perché diciamo il tondo finisce qua e poi tutto il resto è il pizzetto mentre invece qui il tondo finisce qua e il pizzetto è più e più stretto quindi il sistema identico preciso cambiano i materiali alla lavorazione è la stessa se vi piacciono seguite i tutorial che ho fatto e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale perché noi faccio io faccio anzi no io faccio tutorial tutti i giorni tutti i individuo nuove tecniche nuove modalità per realizzare gioielli con delle anche diciamo materiali non costosi perché in questo caso questo l'ho ricavato appunto da un fondo della di plastica e qui poi c'è del semplice filo di alluminio e un po di cristalli la monachella l'ho fatta col solito sistema della del chiodino quindi diciamo costo veramente basso sia di questo che di questo e vi metterò sotto il link se volete farli quindi o nero e poi chiaramente si possono fare in altri colori l'alluminio esiste in tanti colori lo potete fare anche dorato così come i cristalli adesso io ho utilizzato lo stesso mix ho fatto proprio mix di cristalli ma li potete utilizzare il colore che volete bene spero vi piaccia e ci vediamo al prossimo video